Immaginate di avere una vicina di casa un po' anziana, tranquilla ma allo stesso tempo un po' strana, anche perché crede nella cartomanzia. Dice di essere una veggente, ma con voi si comporta bene? È buona, gentile, altruista e disponibile, prepara sempre dei pasticcini buonissimi e fa anche del sapone con le sue mani. Voi mangiate i suoi pasticcini, usate i suoi saponi, ma poi un giorno scoprite il suo agghiacciante segreto. Un segreto che vi farà pentire di aver mangiato quei pasticcini e usato quei saponi. Ragazzi, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi, finalmente, parliamo di un caso italiano famosissimo, la storia di Leonardo Cianciulli. Per un po' la sua storia è rimasta nell'ombra, anche a causa della seconda guerra mondiale, ma dopo il conflitto tutte le informazioni sono diventate di dominio pubblico e vi assicuro che fanno davvero rabbrividire. È tra i casi italiani più disgustosi su cui io mi sia mai informato. Non vedevo l'ora di parlarvene, anche perché mi chiedete praticamente ogni giorno di parlare di casi italiani. Andrew, fai un caso italiano? Fai un caso italiano? Oh, Andrew, perché non fai un caso italiano? Fai casi italiani? Oh, eccomi. Faccio un caso italiano. E che caso italiano? Comunque, giustamente, cioè, voi fate bene a chiedermelo. Io giuro che ne farò di più. Siamo in Italia, è giusto parlare anche del nostro paese. Comunque, sono sicuro che molti di voi già lo conoscono questo caso. Io anche lo conoscevo già prima di informarmi a fondo. Ma non avevo idea di tutti i retroscena, tutti i contesti, le persone e le paranoie che si nascondono dietro questa storia. Non siete pronti? O magari sì, non lo so. Vabbè, iniziamo. Ci troviamo qui, in Italia. È dalla fine del 1800. È un periodo completamente diverso rispetto a quello in cui viviamo ora. Il periodo del risorgimento è appena terminato. L'Italia è unita e il mondo intero si sta modernizzando sempre di più. Nel nostro bel paese, però, in quel periodo ci sono ancora delle mentalità piuttosto discutibili. Ci sono ancora adesso. Ma vabbè, in quel periodo molto di più. In alcuni comuni, infatti, si possono facilmente trovare presunte veggenti e cartomanti. La mentalità della gente nelle province è piuttosto arretrata, per cui viene molto facile imbrogliare il prossimo. Molte persone utilizzano l'ingenuità dei meno istruiti per approfittarsi di loro. Inoltre, ci sono delle leggi non scritte che mettono in difficoltà certe categorie di persone in determinati ambiti. Per spiegarvi meglio, le donne in questi anni devono soltanto crescere, imparare un mestiere da donna, tra virgolette, come il cucito. Poi devono sposarsi, mettere al mondo dei figli e, occasionalmente, socializzare. E a questo punto sono già stati fatti dei passi in avanti rispetto al passato. Vi lascio immaginare. Certe donne, comunque, a fine ottocento, possono anche ambire a diventare cameriere, governanti e, più raramente, possono anche provare ad avere ruoli importanti nelle comunità. Purtroppo, però, ci sono ancora troppe cose che non vanno. Per fare un altro esempio, se una donna veniva violentata e rimaneva incinta, doveva per forza sposare il suo aggressore. Se non lo faceva, veniva ripudiata dalla famiglia e dagli amici. È assurdo perché, in questo modo, la donna veniva umiliata due volte. Una, durante lo stupro, e una durante il matrimonio col suo stesso aggressore. E, ovviamente, l'aborto non era una soluzione. Era vietato sia dalla società che dalla legge. In più, in quegli anni, l'aborto era molto pericoloso. Si rischiava la vita. Non era una procedura sicura come lo è oggi. Per niente. Ecco, questo è il contesto in cui si ambienta la storia che voglio raccontarvi oggi. Le cose che vi ho appena detto sono fondamentali per capire le cose che sono successe. E, soprattutto, perché sono successe. Semplificando e riassumendo tantissimo, questa è l'Italia del 1800. Certo, in quegli anni sono accadute anche cose molto belle e rivoluzionarie, ma a noi interessano gli aspetti di cui vi ho appena parlato. Perché devo presentarvi una certa Emilia di Nolfi. Emilia abita a Montella, in provincia di Avellino, in Campania. È una donna come tante altre. Cresciuta ed educata per fare la donna di casa. Ma, purtroppo, un evento tremendo rende la sua vita un vero inferno. Emilia fa la conoscenza di un uomo di nome Mariano Cianciulli, un allevatore di bestiame. Mariano, però, non è affatto un brav'uomo. Anzi, è una persona cattiva e violenta. L'uomo peggiore che Emilia potesse incontrare. I due, infatti, si incontrano nella maniera più violenta possibile, con uno stupro. Non sappiamo dove e quando sia accaduto, ma sappiamo che questa violenza sessuale fa rimanere incinta a Emilia. Che, come vi ho detto prima, è obbligata non solo a tenere il bambino, ma anche a sposare il suo stesso aggressore. Aggressore. Questa è una di quelle situazioni in cui la donna non aveva scelta. Non aveva via di fuga. La società, ma anche la legge, sotto certi punti di vista, le impongono di trovare marito al più presto, così da non disonorare il nome della famiglia. È una cosa terribile ed Emilia giustamente è devastata. Ma non può fare molto. In queste situazioni, molte donne cercavano di non distruggere la reputazione e il nome della propria famiglia, perché, purtroppo, erano troppo importanti. Emilia, molto probabilmente, in quei momenti si è persino sentita in colpa, quando in realtà non avrebbe dovuto. Ma questi preconcetti malati sono molto comuni in quel posto e in quegli anni. Per cui per lei non è così facile andare conto tutto e tutti. Non ha le forze per ribellarsi. Non sa dove andare. Non sa cosa fare. Non ha altre possibilità. Per questo si sente costretta a subire questa ingiustizia. Non vuole essere mamma. Non vuole essere moglie. E non vuole sicuramente Mariano nella sua vita. Ma a causa dell'insistenza dei suoi genitori, finisce per sposarlo. E infine, per dare alla luce sua figlia, Leonardo Cianciulli. Leonardo non nasce proprio sotto i migliori auspici. Già in partenza, la sua è una famiglia disfunzionale e forzata. Questo la dice lunga sui futuri sviluppi della piccola. Comunque, Leonardo nasce a fine ottocento. Le fonti riportano date diverse, come il 1892, il 1893 e il 1894. Ad ogni modo nasce nel mese di aprile. Come potete immaginare, però, non è ben voluta da sua madre Emilia. E infatti lei comincia a trascurarla completamente. La odia addirittura. E vorrebbe semplicemente che non esistesse. Il che è comprensibile. Per lei è come se Leonardo fosse l'incarnazione del suo trauma. Delle violenze subite. Vede nella piccola il dolore che è stata costretta a subire. Credo che da questo punto di vista non ci sia niente di peggio. Leonardo, tuttavia, è una vittima in questa famiglia. Perché viene trascurata in ogni modo. E soprattutto non ha alcuna colpa di tutto ciò che è accaduto. Ma questo i suoi genitori non riescono a capirlo. Né suo padre, né sua madre le mostrano affetto. E a causa di questo, Leonardo sviluppa una borbosa voglia di attenzioni. Si sente inutile. Una presenza indesiderata. Il che purtroppo è vero. Non conosciamo i comportamenti di suo padre Mariano, ma possiamo immaginare. Probabilmente era violento o in generale non si è mai comportato come un genitore. In ogni caso, per Leonardo non c'è mai tempo. Nessuno ha voglia di stare con lei. Parlarle. Fare dei gesti carini per lei. Nessuna carezza. Nessun bacio. Nessun segno d'affetto. Crescere spinta da tutti. Sostenuta solo dai suoi amici immaginari. Come se questo non fosse già abbastanza. C'è un'altra cosa che non va in famiglia. Emilia, sua madre, oltre ad odiarla e ad essere un pessimo genitore sotto ogni punto di vista, convince sua figlia che deve per forza sposare un uomo ricco. Per lei non ci sono altre scelte e spera che così facendo Leonardo possa risollevare le sorti della famiglia. Lei però, ovviamente, non ci pensa nemmeno né di ascoltare sua madre né di sposarsi per forza con qualcuno di ricco. In questo momento è ormai adolescente e pensa a scoprire se stessa, a cercare negli altri quell'affetto che non ha mai avuto. Sicuramente non pensa a sposarsi solo per i soldi, ecco. Tuttavia, questa sua continua ricerca di affetto e attenzioni la porta a stare a letto con molti uomini e anche molto più grandi di lei. E potete solo immaginare cosa tutto questo comporti. Per le persone della sua cittadina, il suo atteggiamento è considerato promiscuo e anche peccaminoso. In aggiunta a ciò, è probabile che sua madre Emilia avesse cominciato a provare un po' di invidia verso di lei, perché lei, ai suoi tempi, non aveva avuto tutte queste possibilità, tutti questi uomini. Perciò l'astio, tra madre e figlia, continua a crescere, si intensifica e sembra non trovare mai una fine. Le due si odiano proprio dal profondo del cuore. Ad ogni modo il tempo passa e all'età di 21 anni, quindi già molto grande per gli standard dell'epoca, Leonardo non ha ancora un marito. Però si innamora. Si innamora di un uomo più grande di lei. Quest'uomo si chiama Raffaele Pansardi. Lavora come impiegato, quindi fa un lavoro molto rispettabile. Purtroppo non guadagna molto, il che lo rende poco interessante agli occhi dei genitori di Leonardo. Della madre, più che altro. Ma lei se ne frega. Lo ama. Lo ama sinceramente e vuole passare il resto della vita con lui. Emilia però è incavolata nera, non accetta l'amore di sua figlia e fa di tutto per impedire il loro matrimonio. Ed è qui che si raggiunge l'apice del loro rancore. Mamma e figlia, se ne dicono di tutti i colori. E non c'è modo di calmarle. Ma Leonardo impone le sue scelte, una cosa non così scontata per l'epoca. E allora Emilia, completamente frustrata, la maledice. Le lancia contro una vera e propria maledizione. Ora, chiaramente noi sappiamo che certe cose non esistono, ma per via del periodo storico, del contesto e di tutto quanto, Leonardo prende sul serio quelle minacce e crede davvero che sua madre l'abbia inferto delle maledizioni. Ed è da qui che tutto comincia a peggiorare drasticamente. Nel 1917, presumibilmente all'età di 23 anni, Leonardo sposa Raffaele Pansardi. Nonostante la maledizione, a cui purtroppo crede veramente, lei prova a vivere una vita felice e serena con suo nuovo marito. Eppure non è tranquilla. Non è solo sua madre ad averle augurato un futuro tremendo, ma anche un'altra sensitiva, anni prima. O proprio in questo stesso periodo a seconda delle fonti. Questa sensitiva le aveva detto esattamente queste parole. Per quell'epoca, e per Leonardo, queste parole sono serie. E il fatto che anche sua madre Emilia le avesse detto più o meno le stesse cose, per lei è un affronto gravissimo. È per questo che spera con tutto il suo cuore di mettere su famiglia. Il suo più grande desiderio è quello di diventare mamma, e di essere migliore di Emilia. Ha paura delle maledizioni, ma vuole lo stesso essere una brava mamma e una buona moglie, per dimostrare a sua madre che era intorto. Non chiede nient'altro. Eppure le cose prendono una brutta piega. A seconda delle fonti, Leonardo rimane incinta 12-13, o addirittura 17 volte. Ma nessuna di queste gravidanze va a buon fine. Alcuni figli nascono morti, altre volte subisce aborti spontanei, mentre altre volte ancora, i bambini muoiono poco tempo dopo la nascita. Questa situazione la svilisce e la deprime profondamente, perché non si sarebbe mai aspettata di subire tutto questo. Si sente davvero maledetta. Non sa spiegarsi questa enorme sfortuna che stava avendo. Il che è davvero strano. Tutte queste morti premature sono davvero atroci e quasi inspiegabili, se ci pensate. Credo che chiunque si sentirebbe devastato. Lei poi non ha gli strumenti per provare a capire meglio, e non ha nemmeno la disponibilità economica per farlo. Il periodo storico, inoltre, non aiuta di certo. E tutto questo, messo insieme, comincia a provocarle molta ansia, stress, ma anche disagio e paura. La povera Leonardo è davvero disperata. Sono anni molto bui per lei. Anni in cui cerca delle risposte, e le cerca a tutti i costi. Per questo motivo, comincia ad appassionarsi sempre di più all'occulto, alla cartomanzia, alla veggenza, e anche alla stregoneria. Comincia ad andare spesso da vari cartomanti, veggenti e indovini della zona. I quali però, purtroppo, non le danno buone speranze. Uno di loro le dice anche queste esatte parole. Vedo nella tua mano destra il carcere, e nella sinistra il manicomio. Capite bene che queste sono pessime notizie per lei, perché ci crede. E probabilmente tutte le parole di questi veggenti hanno influito non poco sul suo modo di comportarsi, da quel momento in poi. Stando alle sue stesse testimonianze, in questo periodo pensa di non poter sopportare la perdita di un altro figlio. Per farvi capire meglio come si sente, voglio citarvi le sue parole, sempre riferite a questo periodo. Quasi ogni notte sognavo le piccole bare bianche di quegli altri, inghiottite una dopo l'altra dalla terra nera. Per questo ho studiato magia. Ho letto libri che parlano di chiromanzia, astronomia, scongiuri e spiritismo. Volevo apprendere tutto sui sortilegi, per riuscire a neutralizzarli. La sua paura si trasforma in una sorta di armatura, e nonostante le sue debolezze e i suoi traumi, comunque prova ad andare avanti e sviluppa un carattere molto forte, ma al tempo stesso abbastanza terribile. Dopo tutto quello che è passato, i suoi modi di fare sono diventati eccentrici, stravaganti e per qualcuno anche inquietanti. In poche parole capisce che diventare una sorta di maga può effettivamente esserle d'aiuto. Almeno sente che così facendo avrebbe potuto proteggere i suoi figli. Eh sì, perché mentre accade tutto ciò, prova a farne altri. E fortunatamente, o sfortunatamente, dipende da come la vediamo, quattro sopravvivono. Questi sono Giuseppe, Bernardo, Biagio e Norma. Giuseppe, il primo genito, è il suo preferito, diciamo. È il figlio che prende più a cuore e verso cui si sente più protettiva. Sviluppa verso di lui, ma anche verso gli altri figli in realtà, un amore materno decisamente anormale, morboso e ossessivo, il che ancora una volta è comprensibile visto il suo passato. Comunque dal 1921 al 1927 vive con suo marito e i suoi figli a Lauria, in provincia di Potenza, in Basilicata. Lauria, Lauria, non so come si pronunci, correggetemi. Successivamente comunque si sposta all'Acedonia, in provincia di Avellino. Sia a Lauria, così come nella sua città natale, Montella, ma anche all'Acedonia, Leonardo si fa conoscere da tutti in modo, diciamo, negativo. Per gli abitanti di questi paesi, lei è una donna di facili costumi, disonorata, impulsiva, ribelle all'autorità maritale, e dedita alla millanteria e alla truffa. Queste erano proprio le parole degli abitanti di quelle città. Ma al di là delle dicerie, che lasciano il tempo che trovano, ci sono delle prove che dimostrano che Leonardo, nel corso degli anni, ha compiuto dei crimini. Secondo una fonte, nel 1912 è stata accusata di furto, e nel 1919 di minaccia a mano armata. Tutto questo solo a Montella, il suo paese d'origine. Poi nel 1927, Leonardo è stata processata, e in seguito condannata a 10 mesi e 15 giorni di reclusione, per truffa. Sconterà questa pena nelle carceri di Lauria e Lago Negro. Inoltre, le hanno anche assegnato una multa di 350 lire, perché aveva manipolato e raggirato una contadina del posto, estorcendole molti soldi. Ma le cose, nonostante tutto, dopo il carcere sembrano andare per il meglio. Almeno per un po'. Il peggio sembra passato, ma ecco che la sfortuna, o una nuova maledizione, si abbatte su di lei e su tutta la sua famiglia. Un terremoto. Nel 1930 avviene lo storico terremoto dell'Irpinia e del Vulture. Una catastrofe che ha colpito la Basilicata, la Campania e la Puglia, causando la morte di 1.404 persone. A causa di questa catastrofe naturale, la casa della Cianciulli viene completamente distrutta. Questo spinge l'intera famiglia a trasferirsi altrove. Vanno così a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Lì suo marito Raffaele continua a lavorare come impiegato all'ufficio del registro, ma al prezzo di uno stipendio da fame. Solo 850 lire al mese. A malapena sufficienti per mantenere moglie e figli. Questo lo porta ad ubriacarsi spesso, perché sente che di lì a poco sarebbero caduti in miseria. Di nuovo. Insomma, di male in peggio. Ma Leonardo non ci sta. Ancora una volta vuole combattere, e prova a risollevare le sorti della famiglia. Sa che se non avesse fatto qualcosa, sarebbero tutti morti di fame. Allora mette in atto due idee. La prima è quella di continuare il suo lavoro da fattucchiera, strega. Il che le riesce molto bene. La seconda, invece, è più normale, possiamo dire. La donna infatti comincia anche a commerciare abiti e mobili usati. In aggiunta a ciò, la famiglia comincia anche a ricevere un aiuto statale, dato che erano stati vittima del terremoto. Per cui, finalmente, molto lentamente, iniziano ad arrivare dei soldi in casa, e la famiglia comincia a riprendersi. Vanno quindi a vivere in una bella casa, in corso Cavour 11, a Correggio. E presto riescono addirittura a permettersi una domestica. Il che, specialmente per l'epoca, è segno di benessere, di ricchezza, addirittura di prestigio, secondo alcuni. Leonardo sta vivendo il suo sogno. Dopo tutte le sfighe che aveva avuto, finalmente qualcosa stava andando per il verso giusto. Si era impegnata a fondo, e stava riuscendo a ribaltare le sorti del suo destino. Se in altri paesi aveva avuto una cattiva reputazione, lì a Correggio, Leonardo inizia ad essere giudicata meglio. Al massimo una persona eccentrica, ma ben voluta e stimata da tutti. Finalmente viene considerata una persona affidabile, una madre esemplare. Ma non solo. Essendo ormai gli anni del ventennio, Leonardo diventa anche una rispettata e fervente fascista. Crede in Mussolini e nei suoi ideali, come molte persone del suo tempo. E alla fine, riesce a godere di quel rispetto e quelle attenzioni che mai aveva avuto da piccola. In quel periodo poi, i vicini sono entusiasti di lei, perché li accoglie in casa sua, parla con loro, racconta aneddoti divertenti e offre loro dei dolcetti fatti a mano proprio da lei. Leonardo scopre di adorare la cucina, quindi si diletta con varie ricette anche per i suoi ospiti. E lo fa molto volentieri. Non sembra più esserci la minima traccia di tormento, di maledizioni o di problemi imminenti. Almeno questo fino alla fine degli anni 30. Perché è lì che accade di nuovo l'ennesimo disastro. Questa volta è rimediabile. Il lato oscuro del matrimonio tra Leonardo e Raffaele diventa palese e sempre più preoccupante. Il loro rapporto, in realtà, era sempre andato peggio, specialmente da quando si erano trasferiti a Correggio. Stando ad una fonte, lui finisce in prigione per due motivi. Il primo ha a che fare con il suo alcolismo e il secondo con l'appropriazione indebita di denaro. In realtà, molte fonti parlano del fatto che lui abbia abbandonato la famiglia e basta, ma senza dare troppe spiegazioni. Tanto che non sappiamo nemmeno chi fine abbia fatto. Sappiamo solo che Leonardo, ad un certo punto, rimane sola con i suoi figli, molti dei quali sono ormai cresciuti e stanno prendendo la propria strada. Lei intanto cerca di mantenere le sue attività come può, ma ecco che scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Le mancava solo questa, in effetti. La situazione in Italia degenera molto in fretta. Molti sono chiamati al fronte, altri scappano via in altri continenti, e c'è chi fa letteralmente di tutto pur di non andare in guerra. Ed ecco che la paura più grande di Leonardo prende vita. Il suo figlio più grande, Giuseppe, quello che adora di più, si ritrova in pericolo. In alcune fonti si dice che avesse ricevuto la chiamata per il fronte, mentre da altre parti si parla soltanto della possibilità che venisse chiamato per la guerra. In ogni caso, lei è angosciata, anche solo all'idea di perdere un altro dei suoi figli, specialmente il suo preferito. Giuseppe all'epoca stava studiando alla Facoltà di Lettere dell'Università di Milano, ma nonostante questo, la possibilità che venisse arruolato era alta. Leonardo quindi si vede di nuovo il mondo crollare sotto i piedi. Ancora una volta sente il peso di quella tremenda maledizione scagliata da sua madre e sente che sta agendo, di nuovo. Per lei è come una malattia, una malattia che non riesce a curare e non lo sopporta. È imbestialita ed è disposta a fare di tutto pur di impedire la perdita dei suoi figli. C'è da dire che la sua psiche era ormai compromessa da tempo. Il fatto che si fosse interessata all'occulto e avesse cominciato a fare la fattucchiera non ha fatto altro che alimentare in lei un modo di fare narcisista, psicotico e ossessivo. Questo perché effettivamente molte persone andavano da lei a chiedere consigli. Le davano la possibilità di essere così. Essendo famosa in città ed essendo il periodo storico tragico, le persone cercavano delle risposte da lei. Ma intanto Leonardo stava combattendo delle pesanti battaglie interiori e la sua psiche le stava risentendo moltissimo. Il momento peggiore per lei era la notte quando si ritrovava da sola con i suoi pensieri e con i suoi incubi. Ed è durante una di queste notti che riceve un'apparente risposta almeno secondo lei. In un sogno dice di aver visto sua madre Emilia e quest'ultima le avrebbe scagliato contro un'altra maledizione ma questa volta diversa. In realtà era più simile ad una profezia e per farla breve le ha detto che avrebbe dovuto fare una cosa molto particolare e macabra per tenere in vita suo figlio per far sì che non morisse in guerra se non l'avesse fatta. Lui sarebbe inevitabilmente morto. Leonardo però sentendo queste parole rimane molto confusa non sa cosa fare non sa da dove iniziare ma come una sorta di segno del destino la soluzione bussa letteralmente alla sua porta. A chiederle aiuto è una donna sola senza alcun legame e con molti risparmi in denaro si chiama Faustina Ermelinda Setti chiamata da tutti anche Rabitti stando a diverse fonti Leonardo la conosceva già Faustina comunque è una donna senza alcun legame stretto ha i suoi 60 anni o 50 a seconda delle fonti ed è alla ricerca disperata di un uomo vedete tutte queste discordanze tra le fonti è uno dei motivi principali per cui non mi piace trattare casi italiani perché da una parte c'è scritta una cosa dall'altra c'è scritta un'altra il 90% degli articoli sul web sono fatti copia e incolla vabbè comunque tornando alla storia anche Faustina come moltissime donne di quel tempo desidera sposarsi perché crede che quello sia l'unico modo per vivere una vita serena ma essendo già piuttosto anziana crede di non essere più un buon partito spera quindi che Leonardo possa farle conoscere qualcuno la donna quindi furba dice di poterla aiutare le chiede 30.000 lire e spiega a Faustina di conoscere proprio l'uomo che fa per lei dice di conoscere un bel tipo che abita a Pola una città della Croazia e le dice che sarebbe dovuta partire per andare da lui Faustina accetta anzi è super entusiasta di partire per conoscere l'uomo dei suoi sogni è una donna disperata e molto ingenua si fida di Leonardo quest'ultima però le dice di tenere la bocca chiusa riguardo tutto ciò almeno per un po' questo per evitare invidie maldicenze e maledizioni lo so sembra assurdo ma Faustina è disposta a tutto così il 17 dicembre 1939 il giorno della partenza Faustina va a casa di Leonardo per farsi dare le ultime istruzioni ma anche per fare un'ultima cosa prima di partire la donna avrebbe dovuto scrivere delle lettere in cui diceva di trovarsi già a Pola e di vivere una vita felice con quest'uomo in Croazia Leonardo le avrebbe poi spedite appena Faustina sarebbe giunta a destinazione un po' strano ma la donna accetta oltre a questo Faustina prima di partire doveva anche firmare una delega per permettere a Leonardo di gestire i suoi beni erano altri tempi ragazzi c'era un'altra consapevolezza adesso nessuno lo farebbe mai però ripeto Faustina aveva una certa età era molto ingenua si fidava di Leonardo ok tutto questo è molto strano ma comunque lei si fida o meglio sicuramente si è stranita ma il desiderio di viaggiare di conoscere un uomo per lei in quel momento era troppo forte non vedeva l'ora di arrivare e cominciare la sua nuova vita stava male in Italia da quel giorno Faustina non si sarebbe mai più vista in città le lettere scritte prima della partenza vennero spedite e tutto finì così nel frattempo la popolarità di Leonardo in città si fa sempre più forte e in un anno diventa una delle donne più famose della città non solo dà buoni consigli e dice di sapere prevedere il futuro ma a quanto pare è anche in grado di trovare posti di lavoro grazie anche alle sue conoscenze poi se qualcuno in città ha un problema va quasi sempre da lei che sa come accontentare i suoi clienti è un punto di riferimento insomma e così Leonardo fa la conoscenza di un altro cliente Francesca Clementina Soavi anche lei ha una certa età e non ha legami praticamente con nessuno anche lei come Faustina è disperata ma non cerca un uomo ha solo bisogno di un nuovo lavoro aveva lavorato come insegnante d'asilo prima dello scoppio della guerra ma si è presto ritrovata senza un impiego ed è quindi in cerca di qualcos'altro magari comunque inerente al suo ambito allora Leonardo grazie ai suoi conoscenti riesce anche questa volta a trovare una soluzione spiega a Francesca di averle trovato un ottimo lavoro le dice che sarebbe diventata preside di un collegio femminile di Piacenza e come Faustina anche Francesca sarebbe dovuta partire senza dire nulla a nessuno anche questa volta Leonardo si fa pagare bene e le chiede di scrivere delle lettere prima della partenza nonché di dare a lei la gestione della vendita dei suoi mobili così che poi le avrebbe spedito e ricavato a Francesca questo sembra un piano grandioso si fida ciecamente di Leonardo dopo tutto perché non avrebbe dovuto aveva dato una mano a tutti e aveva sempre funzionato per cui il 5 settembre del 1940 anche Francesca si reca a casa di Leonardo per ultimare i preparativi e come per Faustina anche di Francesca non si avranno mai più notizie questa volta però la faccenda sembra troppo sospetta è vero che Francesca non aveva molti rapporti con la gente ma la sua famiglia si è comunque interessata cioè non capiva il motivo della sua assenza della sua sparizione così dal nulla ok aveva ricevuto le sue lettere firmate ma dopo di quelle non si era mai più fatta sentire i suoi familiari a questo punto temono che le sia successo qualcosa e vanno così dall'ultima persona che l'aveva vista ovvero Leonardo e lei li rassicura dicendo che molto probabilmente Francesca aveva da fare aveva un nuovo lavoro molto probabilmente era tanto impegnata e effettivamente i suoi familiari non ci avevano pensato quindi Leonardo riesce a tranquillizzarli e come omaggio regala loro qualcosa dei saponi fatti in casa era ormai da un po' che Leonardo aveva iniziato anche questo piccolo business e a quanto pare si trattava effettivamente di saponi eccellenti i familiari li accettano e se ne tornano a casa più tranquilli qualche mese dopo un'altra donna bussa alla sua porta per chiederle aiuto si tratta di Virginia Cacioppo questa donna era stata per tanti anni una cantante da soprano di successo pensate che aveva studiato canto al conservatore di Milano e aveva esordito nella famosissima opera teatrale Carmen nel luglio del 1904 al teatro Valli di Reggio Emilia era quindi abbastanza famosa e aveva recitato in opere di Verdi Puccini e Mozart per lo più in Italia in Libano e anche in Egitto eppure a causa della guerra la sua carriera si era improvvisamente polverizzata l'arte e l'intrattenimento in effetti hanno spazio solo in tempi tranquilli Virginia quindi si ritrova senza un lavoro e spera con tutta se stessa che la famosa fattucchiera di Correggio possa darle una mano e infatti anche questa volta ha una soluzione durante i loro incontri mentre mangiano biscottini fatti in casa da lei Leonardo le spiega di averle trovato un lavoro da segretaria per un noto impresario teatrale di Firenze le spiega che questo incarico le avrebbe dato la possibilità di tornare sul palco se avesse fatto una buona figura con l'impresario ovviamente Virginia è contentissima per questa opportunità non poteva chiedere di meglio Leonardo però si fa pagare a caro prezzo più delle altre volte chiede alla donna ben 50.000 lire e anche delle gemme preziose giusto per farvi capire ho cercato su internet un convertitore che mi dicesse quanto valessero 50.000 lire nel 1940 e ci sono rimasto male cioè sentite seguitemi quando abbiamo fatto il cambio lire euro 50.000 lire valevano circa 25 euro ok quindi dirvi che Leonardo ha chiesto 25 euro per il suo intervento sembra anche poco ma nel 1940 50.000 lire non valevano 25 euro valevano circa 37.200 euro di oggi quindi no non le ha chiesto pochi soldi anzi Virginia però è disposta a tutto per andare a Firenze Leonardo quindi le propone lo stesso schema collaudato con Faustina e Francesca anzi questa volta le mette fretta ed è più stringente spiega a Virginia che non deve dire a nessuno i dettagli del lavoro né l'ora esatta della sua partenza niente le mette anche una certa fretta con la scrittura delle lettere e così il 30 novembre 1940 anche Virginia si reca a casa di Leonardo e fa tutto quello che le viene ordinato scrive velocemente le lettere e si prepara a partire poi anche di lei nessuno ha più notizie le cose cominciano ad essere davvero strane nella stessa città tre donne sembrano sparite nel nulla e tutte e tre hanno avuto a che fare con Leonardo la scomparsa di Virginia però viene notata di più rispetto alle altre anche perché insaputa di Leonardo c'era una testimone che si sarebbe rivelata cruciale qualcuno aveva visto Virginia per l'ultima volta e non a Firenze o da altre parti l'aveva vista per l'ultima volta a casa di Leonardo dalla quale secondo la sua testimonianza non è mai uscita così Albertina Fanti la cognata di Virginia insieme al resto della sua famiglia si dà da fare e va dalla polizia per chiedere aiuto dicono agli agenti che l'ultima volta in cui Virginia era stata vista era a casa di Leonardo gli agenti quindi rimangono un po' perplessi tre sparizioni nella stessa città tutte collegate ad una sola donna insomma non perdono tempo e vanno subito a parlare con Leonardo per chiedere le spiegazioni ma vengono accolti in casa in modo molto cortese la donna prepara loro il caffè li fa accomodare e parla tranquillamente di qualsiasi cosa anche del suo ex marito ormai la polizia inizialmente crede che il responsabile delle sparizioni sia suo figlio Giuseppe ma non glielo dicono subito vogliono prima vedere come si comporta lei e rimangono veramente colpiti dalla sua gentilezza e ospitalità sembra proprio una bella persona è sempre un po' eccentrica per via di tutte quelle cose della stregoneria ok ma è molto gentile molto disponibile in sostanza fa un'ottima impressione agli agenti non trovano nulla di strano in lei o almeno questa è la loro prima impressione in un modo o nell'altro però riescono a portarle in caserma per farle un vero e proprio interrogatorio e qui le fonti diventano incredibilmente confuse perché ok parliamo di un caso di cronaca nera durante la seconda guerra mondiale comprensibilmente nessuno faceva troppo caso a queste storie c'era altro a cui pensare tuttavia in alcuni articoli online ho trovato una ricostruzione dei fatti piuttosto dettagliata praticamente Albertina Fanti la cognata dell'ultima donna scomparsa non ricevette alcun aiuto dalla polizia perché a detta del commissario mancavano le prove Albertina allora decise di condurre l'indagine per conto suo arrivando a scoprire anche dettagli delle sparizioni di Faustina e Francesca scoprì che entrambe avevano pochi amici e conoscenti entrambe erano teoricamente in viaggio verso chissà dove avevano entrambe più di 50 anni e tutte e due conoscevano ed erano state a contatto prima di sparire con Leonardo a questo punto stando sempre a questa ricostruzione dei fatti le voci su quanto scoperto da Albertina arrivano ad un certo commissario Serrao il quale si mise subito ad indagare più a fondo ma la svolta arrivò grazie a un buono del tesoro si chiamavano così ovvero una sorta di titolo di credito un cedolino Serrao infatti scoprì un giro di scambi di denaro incredibile questo cedolino apparteneva all'ultima vittima cioè Virginia ma era stato presentato alla banca da un sacerdote locale un certo Adelmo Frattini il commissario andò da lui per chiedere spiegazioni perché era strano che un prete avesse un documento che apparteneva ad una donna scomparsa lui però spiegò al commissario che il documento apparteneva in realtà ad un certo Abelardo Spinabelli un amico non suo però un amico di Leonardo secondo la testimonianza del prete era stata lei a darlo a questo Abelardo che poi lo consegnò a lui col compito di riscuoterlo inoltre pare che tra Leonardo e Abelardo ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia ma non ho trovato altri dettagli e in ogni caso non mi sembra il momento adatto per fare gossip comunque alla fine seguendo questa pista il commissario arrivò proprio a Leonardo nuovamente questa volta però aveva delle prove provenienti dai testimoni le prove erano semplicemente le testimonianze del prete riguardo questo cedolino di Virginia tuttavia questo fu abbastanza per arrestare Leonardo e perquisire il suo appartamento tra le sue cose trovarono i vestiti di Virginia Cacioppo l'ultima scomparsa Leonardo a questo punto negò qualsiasi coinvolgimento ma ecco che arrivò la prova schiacciante nel suo solaio gli agenti trovarono una dentiera e un mucchio di ossa il commissario Serrao praticamente aveva risolto il caso ma i suoi sospetti verso il figlio Giuseppe non cessarono pensava che potesse essere una sorta di complice di Leonardo e effettivamente a sua insaputa lo era Giuseppe infatti confessò di essere stato lui a spedire le cartoline firmate ai parenti delle donne scomparse ma disse di essere completamente ignaro di quale fosse la loro situazione semplicemente sua madre gli ha chiesto di fare una cosa e lui l'ha fatta ecco questa era la prima ricostruzione riguardo l'arresto quella con più dettagli ma su altre fonti si dice che Leonardo confessò tutto solo dopo aver ricevuto una sorta di minaccia dalle forze dell'ordine queste ultime le avrebbero detto che suo figlio era stato coinvolto in questo caso e sarebbe stato arrestato cosa apparentemente non vera che le avrebbero detto solo per metterle paura e farla confessare e infatti la donna che avrebbe fatto di tutto per scagionarlo si addossò tutta la colpa in altre fonti ancora non si accenna niente di tutto ciò piuttosto si dice che Leonardo semplicemente confessò tutto con nonchalance una volta portata in questura come vedete c'è molta confusione tuttavia in qualsiasi modo siano andate queste vicende la cosa certa è che Leonardo ad un certo punto viene portata in questura e per un motivo o per l'altro confessa tutto raccontando anche della sua infanzia e quello che dice ragazzi lascia tutti senza parole vi riporto le sue parole perché credetemi non c'è nessuno che può spiegare meglio cosa è successo sentite ero una bambina debole e malaticcia soffrivo di epilessia ma i miei mi trattavano come un peso non avevano per me le attenzioni che portavano agli altri figli la mamma mi odiava perché non aveva desiderato la mia nascita ero una bambina infelice e desideravo morire cercai due volte di impiccarmi una volta arrivarono in tempo a salvarmi e l'altra si spezzò la fune la madre mi fece capire che le dispiaceva vedermi viva una volta ingoiai due stecche del suo busto sempre con l'intenzione di morire e mangiai due cocci di vetro non accadde nulla per quanto riguarda le tre donne sì le ho uccise io e ho fatto tutto da sola non ho ucciso per odio o per avidità ma solo per amore di madre le feci a pezzi e le gettai nella pentola aggiunsi sette chilogrammi di soda caustica che avevo comperato per fare il sapone e rimescolai il tutto finché il corpo sezionato si sciolse in una poltiglia scura e vischiosa con la quale riempì alcuni secchi che vuotai in un vicino pozzo nero quanto al sangue del catino aspettai che si coagulasse lo feci seccare al forno lo macinai e lo mescolai con farina zucchero cioccolato latte e uova oltre a un poco di margarina e mescolai il tutto feci una grande quantità di pasticcini croccanti e li servii agli signori che venivano in visita ma ne mangiammo anche Giuseppe e io per quanto riguarda Virginia finì nel pentolone come le altre due la sua carne era grassa e bianca quando fu disciolta aggiunsi un flacone di colonia e dopo una lunga bollitura ne vennero fuori delle saponette cremose accettabili le diedi in omaggio a vicine e conoscenti anche i dolci furono migliori quella donna era veramente dolce la leggerezza con la quale Leonardo racconta ciò che ha fatto e soprattutto come l'ha fatto è semplicemente disarmante quella che fino a pochi giorni prima era considerata una delle donne più influenti e particolari della città di Correggio è diventata una spietata assassina che ha fatto pasticcini e saponette delle sue vittime una cosa del genere non si era mai vista e purtroppo tutto quello che ha detto pare essere vero all'inizio nessuno crede a queste sue dichiarazioni perché sembrano semplicemente assurde una donna del genere almeno all'apparenza non sembrava proprio capace di smembrare e fare sapone e pasticcini delle sue vittime lei però è irremovibile ed è pronta a dimostrare che ciò che dice è vero secondo una leggenda non confermata infatti durante il suo processo che sarebbe avvenuto più avanti Leonardo sarebbe stata portata di nascosto in un obitorio in cui per provare di aver agito da sola con l'aiuto di seghe e coltelli sarebbe riuscita a smembrare un cadavere in soli 12 minuti il che ovviamente è allarmante ma non è tutto per giustificare le sue azioni Leonardo continua a citare il fantasma di sua madre Emilia spiega che lei quando le è apparsa in sogno le aveva detto che avrebbe dovuto sacrificare delle vite in cambio di quella di suo figlio in sostanza se avesse ucciso qualcuno allora suo figlio non sarebbe morto in guerra non scherzava quando diceva che avrebbe fatto qualunque cosa per i suoi figli e non scherzava quando diceva di aver ucciso per amore di madre ovvero per l'amore verso i suoi figli per proteggere suo figlio ha ucciso perché secondo lei era vero secondo lei se non avesse ucciso quelle donne suo figlio Giuseppe sarebbe morto in guerra era chiaro limpido cioè non poteva essere altrimenti oltre a questo la donna cerca di spiegare un suo ragionamento totalmente contorto racconta di credere di essere come la dea greca era chiamata Teti perché come Teti ha voluto provare a rendere i propri figli immortali la dea le aveva bagnati nelle acque del fiume Stige usando il sangue delle sue vittime perché voleva salvarli dalla morte e Leonardo allo stesso modo più o meno pensava di essere esattamente come lei una dea protettiva che mai avrebbe permesso del male ai suoi figli specialmente a Giuseppe la sua idea contorta però è andata un po' troppo oltre e l'è sfuggita di mano per via di tutti questi motivi viene rinchiusa in carcere in attesa del processo a causa della guerra il suo processo viene rimandato più volte intanto in carcere scrive il suo memoriale di 700 pagine dove annota e spiega tutto quello che sa è sempre calma e tranquilla nel raccontare ciò che ha fatto anzi ne va addirittura fiera perché crede di essere stata una buona madre tutto il contrario di sua madre Emilia c'è però una controversia sul suo libro una fonte sostiene che Leonardo fosse analfabeta si pensa quindi che siano stati i suoi avvocati a scrivere il testo per lei ma al di là di questo effettivamente questo manoscritto viene pubblicato e dopo sei anni dietro le sbarre il 12 giugno del 1946 a Reggio Emilia si apre ufficialmente il processo contro Leonardo vengono fuori molte delle cose che già vi ho raccontato compresa l'assoluta convinzione della donna di aver fatto comunque la cosa giusta di essersi comportata come una vera madre il punto qui è se condannarla o meno a causa di una presunta malattia mentale si discute un po' per cercare di capire cosa ci fosse davvero nella sua testa e che credetemi specialmente per l'epoca non era affatto facile ovviamente è chiaro che la sua infanzia e la sua vita sfortunata hanno contribuito all'insorgere di diverse problematiche ma fino a che punto era effettivamente malata era cosciente mentre uccideva in quel modo la perizia di un certo professor Filippo Saporito docente all'università di Roma e direttore del manicomio criminale di Aversa fa un po' di chiarezza o almeno ci prova la sua perizia infatti convince il giudice solo della semi-infermità mentale della donna non della completa infermità il che cambia tutto e la rende perseguibile per legge le vengono diagnosticate diverse condizioni psichiche troppe per elencarvele tutte ma ve ne cito qualcuna giusto per farvi un'idea allora elevazione alla perfezione omeostasi narcisistica sdoppiamento della personalità ossessione morbosa verso i figli e idealizzazione delle persone da cui si aspetta di ricevere rinforzi narcisistici ok alla fine il 20 luglio del 1946 leonarda cianciulli viene dichiarata colpevole dei tre omicidi di furto ovviamente furto delle proprietà delle vittime e vilipendio dei cadaveri per questi motivi viene condannata al ricovero per almeno tre anni in un manicomio giudiziario e a 30 anni di reclusione gli anni della condanna vengono inizialmente ridotti a 24 ma poi riportati a 30 intanto entra nel manicomio giudiziario dal quale però non uscirà più sconterà la sua pena interamente all'interno di questa struttura durante la sua permanenza nel 1950 le venne fatta una sorta di intervista guardate e sentite cosa dice la legge mi ha condannato e che mi importa della sua condanna 30 anni l'ergastolo l'obucidazione ma che mi interessa a me 17 figli ah cari miei se anche a voi moriranno 13 figli non solo faresti ciò che ho fatto io una madre solo può comprendermi la legge mai forse la scienza mi ha compresa molte persone pensano che stesse recitando che le avessero detto cosa dire parola per parola ma tenete a mente che in quegli anni molte persone parlavano con una certa enfasi e tenete anche conto del fatto che aveva dei disturbi mentali secondo me non stava recitando comunque dopo 24 anni il 15 ottobre del 1970 leonarda Cianciulli perde la vita nel manicomio giudiziario femminile di Pozzuoli all'età di 77 anni la causa del decesso è una poplessia cerebrale un ictus viene poi sepolta nel cimitero di Pozzuoli con una tomba molto scarna e senza troppe decorazioni fino al termine del periodo di sepoltura nessuno ha mai reclamato il suo corpo per cui i suoi resti sono finiti nell'ossario comune del cimitero della città una cosa molto curiosa sono le parole di una suora che lavorava al manicomio giudiziario in cui è stata leonarda malgrado gli scarsi mezzi di cui disponevamo preparava dolci gustosissimi che però nessuna detenuta mai quindi anche in manicomio le sue presunte doti magiche e da strega la precedevano o forse le altre detenute pensavano che nei suoi dolci ci fossero resti umani non lo so fatto sta che ho trovato questo aneddoto molto interessante comunque gli strumenti che la cianciulli aveva usato per compiere i tre omicidi sono conservati a Roma dal 1949 nel museo criminologico sono questi qui esposti nella sezione del museo dedicata a lei la storia di leonarda cianciulli ha ispirato articoli libri documentari video come il mio si tratta di un caso davvero particolare e interessante sia per il contesto storico in cui è avvenuto sia per la psiche e la vita dell'assassina quindi sono curiosissimo di leggere i vostri commenti perché sono sicuro che già tantissimi di voi conoscevano la storia per cui ecco se sapete qualcosa che non ho detto volete aggiungere informazioni o semplicemente dire la vostra o correggermi se ho sbagliato qualcosa sentitevi liberissimi di farlo qui sotto mi raccomando però siate gentili ed educati che di cattiveria in questo mondo ce n'è già troppa noi siamo persone migliori la mia community è bella siamo persone eh di un certo spessore giusto non so perché lo sto dicendo comunque in attesa di ricevere i vostri commenti anticipo a voi pochissimi che siete rimasti fino a qui che presto parleremo di una ragazza che per gran parte della sua vita non ha potuto avere contatti col mondo e il risultato è stato semplicemente agghiacciante spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi e ricordate di massacrare i pulsanti iscriviti e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao 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 ciao